Cari, eh? No? Siamo molto sexy! Non ti preoccupare, ragazzo. Presto sarà con passata. E partiremo per la nostra avventura. Perché io... Ho annullato gli impegni per te. Tu... Ehi. Ce la spasso le malagrate! Yeeey! Non vediamo l'ora! Salve gamers, youtubers! Benvenuti a questo nuovo episodio di Faircry 4. Sto facendo il multiplayer, ragazzi. Ma giusto così, per dargli un'occhiata. Perché quello del 3 non l'ho voluto provare. O lo provo ora, guardate. Dunque, siamo Simbiote 3000, ovvero me. Ayer Warrior e Lord Homer, che ha cambiato squadra prima in quella degli altri. Che è già uno per chiamarsi Lord Homer, vabbè. E siamo contro... Vabbè, Apollo se n'è andato. Siamo contro Relais 1862. Il Bonfi... Cambiano squadre così. Ora ci abbiamo Outcom con noi e Isaac Newton. Isaac Newton, quindi. Vabbè. Weh, what's up? E vabbè. Sento voci di altri giocatori mentre faccio il mio gameplay. Avvia partita, pronti? Ok, pronti. Se vedi comparire un animale, signore Kenny Paragi, c'è anche il Rakshasha che l'ha evocato. Giusto, dunque. Nel multiplayer era inizio, ragazzi. Siamo su Twitch intanto, eh. Faccio una cosa combinata perché... Così. Mi garba la roba, via. Sì, la roba pesante. Vabbè. Scherzi a parte. Sono stacco morto, non ho nemmeno tanto tempo. Cerchiamo di far divertire tutti il più possibile con questa live. Porca boia. Mi son fatto male alla gamba perché ci ho picchiato sopra. Proprio nel punto. Sapete dove ci si dovrebbe picchiare col piede per spezzare la gamba? Ecco, proprio lì ci ho picchiato. Ok. Siamo al terreno. Questo non è Far Cry 4, mi devo essere sbagliato. Ho aperto Tree Simulator 2015. Istituto. Rakshasha. Conquista l'avamposto. Non c'è problema. Che è? Dotazioni. Arco. Vediamo. Posso scegliere. Ah, noi siamo i Rakshasa. Qui siamo i cacciatori. Ok. Chi armi ho? Cacciate il sentiero. Vado a prendere la bandiera. Ok. Oh, porca boia. Quindi, ragazzi, è anche nuovo il multiplayer. Praticamente, sul multiplayer ora, a quanto pare, possiamo interpretare o i Rakshasa, o i Rakshasa, che sono controllati a quanto pare da Pagamin, oppure quelli che devono difendere la zona. In questo momento noi siamo i Rakshasa e stiamo andando a giro. Accucciati da... Accucciati da... Vabbè. Ah, da accucciato divento invisibile proprio. Cacchio. Guardate com'è preciso con l'arco e le frecce. Cacchio. Cosa succede se evo con Aquila Nera? Cosa succede? Che... Non so, non so, ragazzi. Io, la prima volta che ci gioco, proviamo... Frecce normali che ce ne abbiamo infinite, via. Puoi raccogliere per... Per preparare le siliche. Sì, vabbè, come un gioco normale, va bene. Cioè, bello, hanno rifatto bene anche il multiplayer sembrerebbe. E questa è una cosa assolutamente di cui fa... Eh, dire che... Cioè... Perfetto. Elefanti! Elefantino, vieni di! Vieni di, cucciolo! Vai che facciamo casino! Facciamo casino, vai! Vai! Forse non da questa parte, eh! Andiamo, corri, cucciolo! Corri, carica! Da questa parte andiamo a sfondarli tutti! Così, cucciolo d'elefante, vieni! Ti chiamerò... Ti chiamerò Orecchioni! Ti chiamerò signor Orecchioni Buricchioni! Pronto, signor Orecchioni Buricchioni? Sfondiamoli! Sì, se troviamo l'accesso, rispondiamo! Di qua! Vieni! Salta! Vai! Vai così! Rispondiamo tutti dal primo all'ultimo! Chi è il nemico? Chi è il nemico? Dov'è? Ammazziamo lui e tutta la sua confraternita di idioti! Chi è che mi ha scoperto? Chi è lo schioccio! Dove sei? Vieni, imbecine! Dov'è? 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 Di qua! Vieni, vieni! Dov'è sei? Dov'è sei? Vieni, dai! Dov'è? Dov'è sei? Vieni, vieni! La connessione ferma ai server di Fairclay 4 si è interrotta! Avrei riportato almeno il principale! Sì! Sì! Ma vieni! Ma vieni! La prima partita si è conclusa con una disconnessione! Ma non potevo desiderare di meglio dal primo gioco! Dalla prima partita del multiplayer di Fairclay 4! Non potevo desiderare di meglio! Io lo capite voi! Sì! Lo capite! D'accordo! Vediamo l'editor di mappe! Vediamo l'editor di mappe! Facciamo una mappa avamposto! Creiamo una mappa a caso! Mappa vuota! Montagne! Montagne Shangri-La! Vediamo le montagne di Shangri-La! Vai! Avvi l'editor di mappe! Non so cosa cazzo sto facendo ma lo sto facendo perché ho cominciato il video! Ormai lo devo portare a termine! Devo fare uno schifo di qualcosa! Non posso fare... Vedere quei 5 minuti scherzi! Quindi vediamo! E la miseria che sto guardando io! Che sto guardando io! Strumenti! La gruppa strumenti! Aggiungi IA! Aggiungi nemici 1! Ah! Ce ne sono tanti! Cacchio! Non riesco a vederli! Merda! C'è qualcuno di importante? Chi è questo? Allora? Oh! Pagamin! Vai! Inseriscilo! Qualche altro... Un esercito di Pagamin! Ne mettiamo un esercito! Vai! Va bene! Non c'è bisogno di altro! Punti animazione! Con oggetti! Con gli animali! Non so cosa... Vabbè! Per i personaggi... Vabbè! Kissine! Posso provare la mappa? Posso provare la mappa? Posso provare la mappa? Gioca! Vai! Serve giocare senza punti di entro giocatore! Ciò potrebbe causare errori imprevisti! Puoi aggiungere un punto di entro giocatore tramite... Non mi frega! Fammi cominciare! Perfetto! Pagamin! Ricominciamo subito! Yeee! Min! Ah! Yeee! Sperminiamo Pagamin! Dov'è! Così va! Ah! Dicevo! Diceevo! Dai riproviamoci per piacere perché non posso fare... Figure intensi simili! Yeee! Yeee! Vai così! Dove sei? Ammazziamoli tutti! Tutti quanti al primo all'ultimo! Vai così! Non ne becco mezzo! Non ne becco mezzo! Non ne ho peccato mezzo! Non ne ho peccato mezzo! Moriteci male! Almeno uno! Dai! Fatemi sto favore! Granatissima di omare! Granatissima di omare! Curati! Ancora curati! Ah! C'ho 4 di vita! Sono più potente nel multiplayer che nel single player! Da dei meggi! Vai! 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 Sparali a tutti! Ammazzameli! Ammazzameli! Dai! Con le tue armi schifose! Vai! Fammi qualcosa! Mazzami una molotov! Vai così! Una bella molotov! Una bella molotov là! E tutti sono più felici! Almeno io vi siuo! Morici! Pagambin! C'ho soltanto la pistola! C'ho soltanto la pistola! E 36 colpi! Pistola e 36 colpi! Pistola e 36 colpi! Aiuto! E quant'è potente quest'arma! Miseria ladra! Gli ammazzo tutti! Morici! Morici ti ho detto! Miseria ladra! Sono tutti lì per terra! Per davvero! Moriteci almeno! Fatemi sto favore! Siamo ridotti uno schifo! Curati! Curati! Vai così! È qui! Sono qui! Ammazziamo questi due almeno! Ammazzamene uno almeno! Che ti devo dire uno! Uno! Eh cacchio mi tocca... Headshot! Dai che ti ho fatto un headshot palesissimo! Dai! Cacchio ti prego cura! Ti fa qualcosa! Non posso fare un episodio così a merda! Dai! Muori! Ma perché non muoiono? Perché non muoiono? Dovevo impostargli anche la vita probabilmente! E vabbè! Non potevo mica impostargli da zero! Muoiono come tutti gli altri nemici! Dai che è morto! Sono morto in meretà con due! E arriviamo con due! E allora... No no no! E come si faceva? Vai! È morto! Manca solo un pagammin! Manca solo un pagammin! E ho fatto una roba epica! Epica! Proviamo? Proviamo! Corri! Vai! E abbiamo ucciso pagammin! Abbiamo ucciso pagammin! E chi se ne frega era finto! Quindi andiamo Usciamo dall'editor di mappe E non lo so Vediamo se riusciamo ad entrare in un'altra partita multiplayer Tipo Battaglia del Kairat, vai Poi prima o poi ragazzi Però so che l'editor di mappe di Firecray È molto più, è molto migliore Ci sono molte più cose, è molto più bello Che dite? Magari potrei fare una nuova serie Sempre Firecray Farò però a parte la campagna E a parte farò il multiplayer E per esattezza farò delle mappe sfida Delle mappe che editerò io E voi mi direte cosa metterci Cioè tipo mi direte Mettici 30 tigri Devi sopravvivere uccidendole tutte con solo la pistoletta Mettici Te con il fucile da cecchino E devi cecchinare una trentina di nemici Da 5 metri E non posso giocare online Perché il gioco è così Vabbè Vabbè Ragazzi Io allora Siccome ve l'ho detto Siamo su Twitch e su YouTube contemporaneamente Faccio vedere agli utenti Twitch Che ci hanno appena raggiunto Li faccio dare un'occhiata All'amodinaggio per tre singolo Cioè un attimo Non faccio nessuna missione Perché ho 3 minuti Non ho tempo di fare niente Farò vedere La mappa E un po' come Come ci si muove Via Allora Qui vedete Ci sono armi Personalizzabili Tutto Vedete Ho comprato la tuta l'area Che non so se l'ho fatta a vedere ai miei amici Vediamo Me la faccio vedere subito Intanto a vedere Olè 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 E' la stessa roba di Faircray 3 Quello che qui mi pare che sia Molto migliorata Proprio a pelle lo dico A pelle Vediamo l'acqua Non ho mai provato a sprecare nell'acqua Boia bellissimo Molto realistico Migarba Migarba Meglio ti fa l'out 3 Muori capra Muori capra Dammi la tua carne capra Ti sacrificherò Al dio pistola Al dio voltello anzi Perfetto vai E niente Allora Cacchio E' stato un episodio molto strano Devo dire E' stato un episodio molto strano Non ho fatto praticamente niente Volevo mostrarvi a tutti Il multiplayer Non ho potuto Non ho potuto mostrarlo a nessuno Perché Non so I serbri di Faircray 4 Fanno le bizze Fanno le bizze molto strane Tra l'altro Fanno un po' gli stronzi E vabbè Non importa Dunque Chi è? Che succede? Che è successo? Che accade? Adesso è la nostra amica Quella dell'altro episodio Della serie Dunque Tutto ok ragazzi Tutto ok Io direi che l'episodio Può finire qui Ci vediamo Alla prossima puntata Mettete il piaccio Condividete Iscrivetevi al canale Commentate E ci vediamo Alla prossima puntata Sul canale di YouTube Tama se ci vediamo E poi ragazzi Ciao Ciao